Dal 15 novembre il Comune di Napoli riduce drasticamente l'uso della carta. Il direttore generale Silvana Riccio ha disposto che tutti gli scambi interni di comunicazioni e documenti avvengano in formato elettronico attraverso un apposito software di gestione dei flussi documentali, accessibile da tutte le postazioni di lavoro. La circolare perfeziona un obiettivo già assegnato a tutti i dirigenti con la programmazione dell'anno in corso. Chi non rispetterà il divieto di usare carta vedrà decurtata la retribuzione di risultato. Per promuovere le comunicazioni sull'intranet aziendale ai lavoratori si chiede di consultare almeno due volte al giorno la posta elettronica. Parte un processo di adeguamento a quella che è una normativa nazionale. Abbiamo trovato una situazione già pianificata da questo punto di vista dagli uffici. Adesso si tratta di utilizzare al pieno le potenzialità di un sistema di software, forse migliorarlo, personalizzarlo secondo le esigenze del Comune. Bisogna dotarsi tutti di una firma digitale, di una casarella di posta elettronica certificata. Noi abbiamo un codice dell'amministrazione digitale e della pubblica amministrazione che dobbiamo attuare in pieno. Secondo una stima ministeriale di qualche anno fa, il costo complessivo sostenuto in Italia per la gestione dei documenti amministrativi oscilla fra il 2 e il 4% del prodotto interno lordo e pari cioè a diverse decine di milioni di euro. Perciò la dematerializzazione dei documenti non soltanto aumenta l'efficienza e la rapidità degli scambi ma consente anche notevoli risparmi alle aziende pubbliche e private.